pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il sabato santo è un giorno particolare il rischio è ridurlo a un giorno di pulizie preparazione in vista della veglia pasquale eppure ha un significato spirituale molto intenso gesù non è solo morto per noi è stato tre giorni nel sepolcro gesù è sceso nel regno degli inferi per liberare le anime che lo attendevano sin dall'origine dei tempi è un mistero profondo che chiede di riscoprire un po il silenzio e ha ragione come ha scritto Hansen Grün fa bene immaginare che gesù scenda anche nei miei inferi ci farà bene chiederci che cosa sto escludendo dalla mia vita quali sono quelle ferite o quei fallimenti che non voglio guardare che cos'è che cerco di reprimere di nascondere a me stesso agli altri e a dio proprio in questi ambiti di morte oscurità cristo vuol scendere per portare vita e riportare alla vita quanto c'è di rigido freddo e morto in me le cone della chiesa orientale rappresentano gesù mentre scende nel regno della morte e porta con sé tutti i morti da lui vivificati il sabato santo è un giorno particolare dove puoi lasciare che gesù scenda profondamente in te per risollevarti al contempo il sabato santo ci invita a scendere in noi per seppellire ciò che ci tiene lontani dalla vita ciò che amore non è allora chiediamoci che cosa sarebbe bene seppellire definitivamente ad esempio potrei seppellire i miei sensi di colpa lasciandomi perdonare da dio imparando ad accogliermi nella mia finitezza e dandomi da fare per il bene altrimenti continuerò a dilaniare me stesso girando a vuoto senza uscirne mai oppure potrei sotterrare le offese ricevute se mi apro al perdono la smetterò di usarle come armi contro gli altri allora potrò deporre il mio cruccio i miei risentimenti la mia amarezza non mi serviranno più come scuse per rifiutare la vita devo aver fiducia nel fatto che Gesù è sceso sin lì in tutti quei tormenti interiori che mi procuro o che alimento per liberarmi con il suo amore e farmi risorgere a vita nuova cari fratelli e sorelle nel sabato santo contempliamo Gesù che scende negli inferi che discende negli inferi della mia paura della mia rassegnazione della mia autocommiserazione del mio rifiuto della vita e di ciò che la vita mi offre per salvarmi e trasformarmi nel profondo della mia anima smettiamola dunque di scappare da noi stessi scendiamo nel nostro cuore non da soli ma con Gesù che ci ama sin lì scendiamo nei nostri inferi con lui il solo capace di tirarci fuori facendoci scoprire amati e amabili e allora sì che potremo giungere alla Pasqua come persone redente e rinnovate dunque miei cari buona meditazione buon sabato santo e che il buon Dio vi benedica pace e bene a tutti